Sopra al luogo dei vigili urbani della locale stazione di Battipaglia, gli ordini del comandante Gerardo Iuliano per fare chiarezza sull'incidente costato la vita a due lavoratori extracomunitari, travolti e uccisi da una 57enne battipagliese, a bordo della propria auto, mentre percorreva via Serroni nel tardo pomeriggio di sabato. Per la ricostruzione della dinamica del sinistro potrebbero rilevarsi molto utili eventuali immagini di telecamere collocate all'esterno dell'abitazione della zona di Serroni, luogo dell'investimento. Inoltre all'attenzione degli inquirenti e anche la possibile velocità dell'automobile al momento dell'impatto con i due malcapitati, auto sulla quale nelle prossime ore verranno effettuate ulteriori verifiche tecniche per appurare anche altri aspetti utili alle indagini.